Questi cinque trucchi che ti rendono la donna attraente. Allora, la prima cosa che devi fare è imparare a gestire lo sguardo. Lo sguardo, come si dice, gli occhi sono specchi dell'anima, ma ti posso garantire che tu devi esercitarti con lo sguardo. Imparare a guardare un uomo è fondamentale per sedurlo, anche per abbordarlo, provocarlo, stuzzicarlo, stimolarlo. Tu non sai quanto lo sguardo possa far innamorare le persone. Si dice anche innamorarsi al colpo d'occhio, ed è così. L'innamoramento avviene proprio grazie come una persona ti guarda, quali sono i modi con cui una persona ti guarda, quali sono gli atteggiamenti con cui una persona ti guarda. Allora, questo è un punto importante, è un punto fondamentale. Capire questo direi che è la base, la parte più importante, basilare per riuscire a coinvolgere. Che sguardo devi avere? Beh, intanto devi imparare a strizzare leggermente gli occhi. Sembra strano, ma strizzare gli occhi talvolta ti rende più intrigante. Fallo mentre guardi un uomo, strizzo un pochettino gli occhi, poi distogli lo sguardo, lo riguardi. Ovviamente deve essere una cosa impercettibile. Alternando a aprire gli occhi. Tieni presente che automaticamente ti farai percepire più coinvolta e quindi sarà anche un segnale di verde per lui se riuscirai a dilatare un po' le pupille. Ci sono dei giochini per dilatare le pupille. Siccome la dilatazione delle pupille dipende dalla luminosità, tu ma ogni tanto mettiti magari così, in modo tale da oscurare leggermente la luce, per un po' di tempo poi avrai le pupille leggermente, più impercettibilmente più dilatate. Ovviamente ti tenete gli occhi aperti, perché quando c'è meno luce le pupille tendono a dilatarsi. Sembra una piccola cosa, ma questa cosa genera un grande effetto, soprattutto a livello subliminale. E attira molto il maschio, tende a coinvolgerlo e questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Quindi l'utilizzo dello sguardo veramente ti può rendere una donna super magnetica, super attraente, impara veramente queste strategie perché ne vale veramente la pena. Il secondo punto è, diciamo... Ah, tra l'altro, dimenticavo, un'altra cosa molto interessante è quando guardi gli uomini, abbinare il sorriso. Guardare e sorridere è un altro gesto che ti rende veramente magnetica, veramente attraente, veramente intrigante. Quindi impara a giocare in questo modo. Un'altra cosa che ti suggerisco di fare, veramente, veramente molto, molto importante, è che questa è imparare ad avere una voce sensuale. Quello che puoi fare ogni tanto è abbassare leggermente il tono della voce e poi alzarlo un pochettino, quindi far vibrare, diciamo, la tua voce. È molto, molto, molto utile perché la voce, lo sguardo messo assieme veramente fanno un'elevatissima percentuale di capacità di sedurre, di capacità di essere giudicata attraente, seducente, coinvolgente. La voce, anche qua, devi esercitarla. La voce deve essere una voce maliziosa, una voce allusiva, una voce sensuale. Tieni presente che, ovviamente, devi, anche qua, fa parte un po' della femminilità. Tutto ciò che differenzia rispetto alla mascolinità è molto, molto importante, molto utile e fa sì che tu possa ottenere, da questo punto di vista, dei grandi risultati. Tu possa ottenere dei risultati fenomenali. Questo è un altro punto molto importante. Un'altra cosa che ti suggerisco di fare è, diciamo, utilizzare un profumo. Un profumo che sia adatto a te. Le linee guida, per essere seducente, sono no profumi nauseabondi. Ci sono dei profumi, le volte che fanno poi venire mal di testa, ti fanno venire la voglia di allontanarsi da una persona. Invece, un profumo fresco, primaverile, sempre che ti faccia dire una sensazione di pulito, dire una sensazione di freschezza. Tra l'altro, un profumo di questo genere ti rende anche più giovane. Invece, i profumi pesanti, dolciastri pesanti, melensi, ti fanno percepire anche come più vecchia. Sembra strano, ma questo è importante. La percezione che noi abbiamo in una persona passa molto attraverso l'olfatto. Quindi la capacità di utilizzare dei profumi che possano, appunto, stimolare questa situazione è molto, molto importante. Direi che è basilare, è fondamentale. E poi, un'altra cosa è impara a gestirli, impara a gestirli uomini con disinteresse. Cioè, impara a trattare gli uomini come se ne avessi tanti. Anche come mindset, come atteggiamento mentale, è molto importante. Perché se impara a trattare gli uomini come se ne avessi tanti, come se, insomma, fossi pieno di uomini, e questo non sembra, ma genera, diciamo, un quid in più. Genera un... Dà, come si dice in gergo, un valore aggiunto. Dà una capacità ulteriore di conquistare, una capacità ulteriore di sedurare. Impara a gestire questa cosa. Quindi l'atteggiamento mentale deve essere quello di una donna che ha tanti uomini che la corteggiano. Vedrai che li attirerai. È molto importante anche questo modo di fare. E poi ti consiglio come ultima cosa quello di essere misteriosa. non renderti facile, non... Deve... Lui scopri, deve mettere energie. Devi... Questo è un'interruzione di schema. Deve essere sempre imprevedibile. Mai... Non deve mai rendersi conto esattamente di dove sei, cosa fai, con chi sei, insomma, dovrà sempre... Devi sempre lasciare delle guest alto aperte. Perché essere misteriosi lascia delle guest alto aperte. e lasciare delle guest alto aperte vuol dire che lui in qualche modo tenderà a coinvolgersi maggiormente con te, in qualche modo tenderà a innamorarsi, a innamorarsi anche follemente di te. Impara bene a a gestire questi... il mistero, a creare mistero attorno a te. Una donna misteriosa ti farà sicuramente percepire come una donna più intrigante, come una donna più interessante. Ecco, segui questi... diciamo, questi cinque trucchi e verrai percepita come una donna seducente, verrai percepita come una donna con una personalità magnetica ed attraente. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Teo Amasco Ufficiale, su TikTok. e ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonare se è facile, basta andare nella homepage, tastina abbonati, che sta vicino al tastino iscriviti, se non lo vedi con l'app del cellulare va con il computer e poi selezioni l'abbonamento che preferisci. qui.